Mister, cominciamo dall'analisi della partita. Il risultato finale dice 1-0 per l'Atalanta, ma i 90 minuti dicono che il Verona c'è stato e c'è provato. Sì, sì, soprattutto il secondo tempo. Il primo tempo non mi è piaciuto molto. Secondo me andavamo un po' piano rispetto a loro, loro sono venuti molto aggressivi e noi probabilmente non eravamo pronti a questa aggressività. Hanno cambiato anche il modulo per giocare contro di noi, quindi vuol dire che comunque stiamo dando fastidio se altri cambiano per venire a giocare contro di noi. Però insomma, dai, primo tempo così così, il secondo tempo ovviamente abbiamo dato molto di più, poi 10 contro 11 abbiamo spinto tanto, in realtà l'avremmo anche pareggiata la partita, ma purtroppo le decisioni degli arbitri in questo momento non ci stanno favorendo, però insomma andiamo avanti. Infatti la seconda tematica era quella che comunque la tua squadra ha attaccato molto nel secondo tempo, ha creato molte occasioni, il gol era effettivamente anche arrivato, ma poi è stato annullato. Sì, sì, beh, è un peccato perché poi c'erano ancora sette minuti e secondo me la squadra era in avanti ed era in un momento positivo, potevamo anche cercare di vincerla, però insomma capita. Come abbiamo sbagliato i gol davanti alla porta, noi purtroppo l'arbitro ha sbagliato, speriamo che poi si compensino un po' questi errori durante l'anno. Grazie mille mister.